Un cartellone di tutto rispetto presentato stamattina per il Natale a Casa Micciola. Michelangelo Messina, allora quali le novità, le cose più eclatanti che emergono subito all'occhio nudo di chi vede il programma? Beh, più che novità direi un'aggregazione di massa, visto e considerate che abbiamo voluto tenere in considerazione le realtà territoriali locali, a partire da quelle ecclesiastiche, cioè dobbiamo ricordarci innanzitutto che il Natale è una festività religiosa, pertanto sono state segnalate tutti gli appuntamenti religiosi, però c'è un cartellone che si è abbalso anche della collaborazione delle varie associazioni sul territorio, quelle di categoria soprattutto, e abbiamo fatto in modo di creare un cartellone che vada bene sia per il turista che ha scelto l'isola per soggiornare, sia per l'isolano, tenendo un occhio di riguardo per i bambini, ma anche per le persone un po' più anziane. Pertanto in 30 giorni ci saranno circa 35 eventi, Sì, pertanto abbiamo colmato più che soddisfacente direi, almeno dalla mia parte, poi vedremo insomma il pubblico se corrisponderà a quello che gli abbiamo proposto. Sì, finalmente ci siamo alla start-up, quindi stiamo all'inizio di un lungo percorso, in effetti abbiamo fatto un bel lavoro nel senso che abbiamo cercato di coinvolgere tutte le associazioni che operano sia nel comune che su tutta l'isola. Sono stati bravi gli assessori, non solo l'assessore al turismo Ignazio, ma anche l'avvocato Nunziapiro, la dottoressa Cimmino, la dottoressa Mia Iuolo, Angelo, tutti i consiglieri, compreso il presidente del consiglio che sta organizzando delle cose belle pure nel periodo proprio sotto-sotto Natale. Io sono contento, è logico che a questo cartellone sono anche arrivati delle lamentele, delle opinioni che io personalmente ho sempre accettato, nel senso che dico sì, noi dobbiamo essere capaci di ascoltare la piazza, di cercare sempre di capire quali sono le motivazioni che portano a certe osservazioni. Io dico che dobbiamo fare questo, ma dobbiamo anche ascoltare e dare ascolto a tante persone che vengono sul comune hanno bisogno di lavorare. Ci sta un momento anche per fare il Natale, c'è un momento dove già ci stiamo ottimando tutti quanti per dare anche risposta a queste tante persone purtroppo che chiedono anche di lavorare e di passare un Natale non solo in piazza a festeggiare, ma anche a casa a mangiare.